Durante la campagna elettorale per le amministrative di Pozzallo l'onoreo Nello Di Pasquale ebbe modo di verificare la condizione disastrosa nella quale versano gli alloggi di elizia popolare dove vivono ben 48 famiglie. Il parlamentare regionale del PD assunse quindi l'impegno di segnalare la situazione al direttore dell'OIACP Giovanni Scuderetti il quale lo informò che già da diversi anni era stata fatta richiesta di finanziamento e oggi lo stesso Di Pasquale ha potuto quindi di comunicare a quelle famiglie che sono stati stanziati 3 milioni e mezzo di euro che serviranno ad acquistare un nuovo alloggi a Pozzallo da assegnare a chi viene i lotti 12, 13 e 14. E sempre in questi giorni, afferma lo stesso Di Pasquale, la delibera di giunta regionale che prevede la ripartizione economica è diventata pienamente operativa e all'OIACP di Ragusa è stato pertanto assicurato che il bando necessario per comprare le nuove case dove andanno a vivere queste 48 famiglie sarà pubblicato entro la fine di ottobre e la dimostrazione rimarca l'esponente regionale del PD che quando si dialoga con la propria comunità è possibile raggiungere risultati considerevoli.